carissime amiche e carissimi amici niceto di buon tour ci troviamo sui monti di santa lucia del mela e potete ammirare che paesaggio che c'è quest'oggi guardate che cielo peccato che c'è un poco di foschia se no si riusciva a vedere anche lettina dove di fronte dove attualmente sono quelle nuvole c'è lettina peccato solo che c'è abbastanza foschia che non permette una buona visuale in fondo potete vedere anche l'isola in primo piano guardate che panorama spettacolo che cielo di fronte quel pizzo di montagne rocca di mogna niceto tv on tour anzi on the road scusate scusate on the road la foschia si viene incontro staremo a vedere come potete vedere c'è macchia mediterranea in queste montagne ci sono felci e piccoli e piccoli arbusti niceto tv on the road niceto tv sempre prima in anteprima ma il cielo è sempre più blu pace e serenità vedete la roccia non ci sono alberi perché c'è macchia mediterranea ammirate che paesaggi mozzafiato ma ci viene anche la nebbia la nebbia gli sticolli più avvicinando sale e sotto al maestrale urla e biancheggia il mare diceto tv on the road a mille metri sul livello del mare paesaggi mozzafiato paesaggi mozza paesaggi 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 vesponHH ammirala paesaggi p p past p La nebbia ha gli irticolli, però non piovicina, anzi devo dire che nonostante l'altezza c'è un clima mite e proseguiamo. Edna che è già innevata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.